Ancora un dramma sulle strade della provincia di Arezzo, un tragico incidente questa mattina tra San Giustino e Loro Ciuffenna. Una ciclista è stato travolto da un'auto ed ha perso così la vita a 60 anni. È successo attorno alle 8.45 lungo la strada provinciale Sette Ponti all'altezza di Podere Bacciano. La vittima Giovanni Brizzi di Laterina si trovava in sede dalla propria bici quando è stato travolto da un'auto. Il ciclista è poi finito in un burrone. L'automobilista si è subito fermato a lanciare l'allarme e sarebbero stati alcuni testimoni. Sul posto immediato all'intervento dei soccorsi con automedica e ambulanza, per l'uomo però purtroppo non c'è stato nulla da fare, è morto poco dopo il violento impatto. In volo anche l'elisoccorso Pegaso per un eventuale trasporto d'urgenza, ma è ripartito a vuoto. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri e la polizia municipale per i rilievi di legge per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Non sono sicuro perché c'è troppa velocità per cui è sempre un pericolo camminare per queste strade. Anche se uno mette la massima attenzione, a parte il fondo stradale, che è tutto disconnesso, però è la grande velocità delle macchine che creano questi problemi. Mi sentite anche in pericolo voi ciclisti? Sempre, 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 sempre. Perché è proprio un terno all'otto. Grazie a tutti.